Crimini, degrado, inciviltà, immigrazione. Parlare di sicurezza è parlare di città e viceversa, perché le città murate nascono per proteggere i cittadini dai rischi dell'esterno. Poi mano a mano questi rischi, percepiti o reali che siano, sono stati incorporati all'interno delle città. In particolare questo avviene oggi, con città che cambiano sempre più in fretta, non solo nei servizi e nelle tecnologie, ma anche nella composizione sociale dei loro cittadini. In che modo una città che si definisce smart può divenire più sicura al tempo stesso ad andare oltre queste paure che sono ragionevoli, ma molto spesso anche irrazionali? La nuova visione dell'economia